Il più cordiale buon lunedì e buon inizio settimana da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Il Papa prega per gli artisti. Nella Messa Santa Marta, Francesco pensa agli artisti e alla via della bellezza e della creatività, che possono aiutare in questo momento difficile caratterizzato dalla pandemia. Nell'Omelia ha invitato a chiedere la grazia di tornare sempre alla prima chiamata, quando Gesù ci ha guardato con amore. Da stamattina in vigore l'ordinanza numero 39 della Regione, sia l'attività motoria vicino casa, corsa dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.30 alle 22. Da oggi riaprono barre e pasticcerie dalle 7 alle 14, ma rimane vietata la consumazione al banco. Oggi poi sarà possibile ordinare telefonicamente il cibo dai ristoranti e dalle pizzerie che hanno deciso di aprire. La consegna a domicilio è permessa dalle 16 alle 22.00. Non ci siamo mai fermati, così il presidente del corso di laurea in medicina di Caserta dell'Università Vambitelli, il professor Marcellino Monda, il quale aggiunge dal 16 marzo tutte le attività didattiche sono online, con grande soddisfazione degli studenti, nell'attesa di riempire di nuovo tutte le belle aule del polo didattico. Tutti insieme si vince, è il messaggio positivo del professore Monda. Prevenendo il progetto di natura educativa e culturale ideato da Catrina Esposito e Dario Giuliano, professori ordinari di endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università Vambitelli, continua sui social. Nonostante il periodo, la salute deve essere tutelata, oggi come ieri. Questo è il messaggio che la professoressa Esposito lancia in questi giorni dal suo profilo Facebook. Ed è tutto da Maria Beatrice Grisci. Un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie positivo su ondawebtv.it Grazie a tutti.